Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto per lunedì 4 marzo. La perturbazione atlantica, giunta domenica al centro-nord, interessa quasi tutta l'Italia. Piogge ovunque, tranne la Liguria e la Toscana, nella prima parte del giorno. Dal pomeriggio però piogge debole e sparse al centro-sud. Nella sera piogge solo su Marche e Abruzzo. Nevicate sulle Alpi, centro-occidentale, Trentino, Alto Adige, oltre 1.200-1.400 metri con accumulo intorno a 10 cm. Debole nevicate anche su Marche, Abruzzo, Molise e Calabria, oltre 1.000-1.200 metri con accumulo inferiore a 10 cm. Temperature per lo più nella norma.